B-RIEXPI BRI Site into Minecraft e qui sono il senatore di Minecraft e ragazzi siamo tornati nella Bri Craft allora ragazzi piccolo problema dobbiamo risolvere un problema io non so quanta energia prendo io non so quanta energia faccio e che non va affatto bene quindi dobbiamo fare dobbiamo andare sulla Enrior e il più facile per andare sulla Enrior è automatizzare lo Steal che ho già fatto perchè è una stupidata e non mi metto lì a farvi i codici che ho già fatto allora il famoso CoCoven viene rifornito tramite la Refinet io ho portato qua un cabetto da Refinet tramite un transmitter, un receiver viene rifornito perennemente di Coal, tanto i Coal ne ho tantissimo cioè Coal quanto ne ho? 600.000? 600.000, quindi non è un problema questo qua viene processato e ogni tot mi dà il Coal Coq e poi mi dà un prodotto secondario che finisce in un endertank questo qua, il prodotto secondario finisce quando c'è in questa Improved 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 che non si chiama Improved ma si chiama Blast Fornace però non fatta con il Blast Brick ma con i Reinforced Blast Brick che si fa con una Steel Plate Steel Plate, una stopinata basta prendere non è un compactor ma io ho utilizzato l'hammer, più facile questo qui tramite questi Pre-Eater è un plug un plug, un point che dà energia mi producono lo Steel e vabbè è un prodotto di scarto che non mi faccio niente quanto Steel ho quindi dopo aver fatto parliamo di 5-6 giorni di farm 2.100 non male non male la End Royale però si basa tutto sul Dark Iron che non lo trovo qua ah Dark Steel scusatemi Dark Steel il Dark Steel come si fa? è facile Induction Smelter dentro Obsidian Dust nulla di nuovo quindi io ho messo un Auto Crafting nella nostra bellissima Induction Smelter tutte le cose della End Royale quindi segnalo pulsante Glimvar un po' di cosine così abbiamo la base base poi ragazzi il resto è tutto un concatenarsi di eventi di cosine allora io volevo i Crystal Line i Crystal Line come si fanno? si fanno con i Binder che è la base dei Conduit stupidata non ve la faccio neanche vedere ma si fanno con questo coso questo coso qua è il prodotto di Gold Eingoth e Grands Obsessualty in un Alloy Smelter i Grands Obsessualty si mette dentro Sarmino un Pulsante in Crystal il Pulsante in Crystal è Iron con Pulsante in Iron Pulsante in Iron cos'è? Pulsante in Iron è il Diffus Alloy Smelter è un Iron e il coso? mi servivano Alloy Smelter e Iron quindi io ho messo un Auto Crafting l'Alloy Smelter facili perché è tutto Dark Steel Steel Dark Steel e il Dark Steel ce l'abbiamo adesso il Dark Steel come si fa? però con il Shock Mill quindi andiamo nel Shock Mill il Shock Mill come si fa? il Shock Mill si fa con bla 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 la prima volta ho potuto utilizzare Simple Shock Mill perché mi sembra questo qua ve l'ho saltato a pie pari ho fatto tipo due stack di Dark Steel e poi l'ho fatti e il prodotto finale se non mi laggasse il gioco grazie mille gioco è questo ho un po' di Alloy Smelter un po' di Shock Mill e con dentro ognuno ha un po' di Recipe Recipe tipo un solo del Dark Steel Hangout Recipe dell'Energetic Alloy dell'Electrical Seal tutto ciò per fare cosa? per fare le banche ragazzi andiamo a fare le banche io le ho già fatte ma ve le faccio vedere giusto per io voglio la banche grossa la banche Vibrand Ben Vibrand ci fa così quindi si fa col Vibrand Crystal ce l'abbiamo se qua ho messo l'autocrafting se qua ho messo l'autocrafting io le ho già fatte 27 27 allora abbiamo due reti della Flux Network una che pre-energia e una che la manda in giro e adesso vi faccio vedere una cosina prendiamo queste e facciamo così 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 ok poi saliamo sopra e facciamo questo qua saliamo sopra e facciamo zan 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 ah così non succede nulla se io gli dico come tutto voglio vederlo quindi mi servirebbe un crescent hammer ok vorrei vedere cosa succede quindi facciamo questo 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 poi andiamo lì ah no guarda c'è già prendendo qualcosa non so non l'ho configurato ma lo stavo già prendendo bravo zighi bravo quindi prendiamo così ok attualmente c'ho 16.000 di input e 5.000 di output e qua piano piano sta prendendo logicamente questo che è in bricks out deve tirar fuori quindi diciamo veramente output e questo diciamo input così abbiamo il nostro bellissimo cosa abbiamo 11.000 circa ma 11.000 è impossibile 11.000 dovrebbe essere molto di più andiamo a vedere crystal line 66 sono 4 tutta l'energia a parte il fatto che sta per arrivare notte ragazzi adesso chiudo la puntata non faccio puntate lunghe perché ho visto che non vi piacciono fate tranquilli questa è una puntata che varrà la pena fidatevi varrà la pena aveva tempo io stavo andando in giro e non beccavo il wireless e mi ha scritto there is no wireless for me io continuavo a cliccare come un babiello vabbè l'unica fregatura del plug è che non porta abbastanza energia quindi io che faccio facile gliela faccio vedere a forza quindi prendiamo ehm ah no è giusto è giusto prendiamo no non è giusto perché non me lo tirano ah perché è già occupato vedere no non è già occupato devo metterlo sotto quindi adesso esploderà tutto ragazzi portate pazienza ok allora facciamo una schiera io vorrei farlo nel chunk eh quindi facciamo questo vai ok poi qua 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 ok allora attualmente probabilmente la refiner si è bloccata no non ancora miracolo però qua non entra più nulla sarà entrando pochissimo bene di zero sta entrando gli va bene la refiner che guarda se lo faccio vedere la refiner sta ancora funzionando per un tot semplicemente perché c'è un po' di rimasuglio qua dentro ma appena su qua finisce appena su qua finisce la refiner si inchioda quindi corriamo al volo rimettiamo il solar panel ricordate che ho 10.000 di input questi cavi qua scusatemi questi cavi qua portano fino a 40.000 quindi fai così vai collega tutto io non so quanto quanto si così qua facciano secondo me non portano fino a 40.000 però ci proviamo ok ho un'altra fila da fare facciamo un'altra fila ok ok quindi direi che una fila così basta vi diamo anche di quali energia per sicurezza ragazzi 81.000 ma se io provo questo è sempre no non è 80.000 ragazzi avete capito se io faccio così scusi 61.000 probabilmente perché si sono storati quindi secondo me questo non serve ne bastano due ne bastano due ragazzi adesso abbiamo 61.000 di ingresso quindi zan 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 61.000 l'ingresso e 5.000 l'uscita ottimo ragazzi questo è un modo per farmare energia per capire quante energia se volete se avete bisogno se vi fa piacere a parte che io prenderei un point of situation point plus point e farei tipo così ok lo metti qua dentro e questo qua è non briggs in ma briggs out così la refinery riparte sta caricando beh non è velocissimo sinceramente io pensavo se è più veloce ma quanto ciuccia la refinery ragazzi ciuccia un po' la refinery ma mi faccio crystal lines mi faccio contrario tipo mettessi un cavo qui e un flux point qua ah ok meglio a meno questi qua sono carichi questo qua non sarà mai carico questo qua ciuccia l'ira di dio quando succia guardate 50.000 botta però vabbè me l'abbiamo fatti ragazzi a meno così siamo tranquilli so quanta energia so mi serve e quando l'energia finirà o comunque sarò quasi in deficit lo vedrò perché mi dirà tipo guarda che stai producendo 61.000 ma ne produci ma ne usi non so 60.000 ragazzi devo mettermi a fare altra energia che arriverà il momento arriverà il momento ragazzi io vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo di commentare se non mi piace se non mi piace scrivi attivare la campanellina dovrei aver quasi finito far vedere tutte le improvements forse manca soltanto un episodio che vi farò vedere magari più avanti ma dovremo esserci dalle prossime quindi inizieremo con le cose nuove cicciotte grazie mille addio grazie per il pesce ciao